Questa sera sarà protagonista la bellezza, corno di rosazzo, infatti stiamo assistendo alla selezione di Miss Mondo, questa selezione valida per le finali regionali del concorso per il 2023, infatti abbiamo conosciuto anche la Miss in carica, Fiorenza Adri, abbiamo parlato con le ragazze, ci siamo fatte raccontare le emozioni che stanno vivendo prima di questa importante passerella, ci hanno raccontato quelle che sono le emozioni, le sensazioni nel calcare per la prima volta una passerella, i genitori, di come le sostengono, ma anche alcune paure che stanno vivendo prima di salire sul palco. Andiamo a sentire le voci che sono davvero emozionanti e poi scopriremo infine chi sarà la vincitrice di questa sera. Sono Elisa Mataloni dell'agenzia Make for You, l'agenzia si occupa di fare le selezioni di Miss Mondo sul territorio e tutta la regione da ben dieci anni e non solo, ci occupiamo di sfilate di moda, servizi di hostess, promoter, in tutto il territorio regionale e il Veneto orientale. Miss Mondo Italia è il concorso di bellezza nato per selezionare la ragazza che rappresenta l'Italia alla finale mondiale di Miss World. Per iscriversi è molto semplice, l'importante è avere la cittadinanza italiana e avere un'età compresa tra i 16 e i 27 anni. Basta contattare l'agenzia Make for You al 345 0600 644 o iscriversi sul sito di Miss Mondo www.mismondo.it La mia ambizione sarebbe di diventare una modella, di lavorare in televisione comunque, di farmi conoscere. Io mi rivederò, ti regalerò, nuove forti emozioni e poi io ci riuscirò, sarà dura ma niente potrà mai perdermi. Questa sera c'è tutta la mia famiglia che mi supporta e spera ovviamente che io vinca. In futuro vorrei comunque viaggiare, andare in giro per il mondo, anche l'Italia perché ovviamente è molto bella. Spero di proseguire comunque. Io avevo già partecipato l'anno scorso a Miss Mondo Italia e ho vinto la finale regionale, la Miss del Web, poi avevo mollato, però siccome è il mio sogno più grande ho ripreso. Spero di proseguire comunque. Sicuramente è da sempre stato un mio sogno quello di poter sfilare e mi dà tantissime emozioni come emozione di essere appunto su un palco che tutte le persone mi stanno guardando. Ma anche molto contenta comunque di poter riuscire a esaudire questo mio sogno che da sempre è stato un mio sogno e quindi insomma davvero felice, felicissima. Infatti non è la mia prima esperienza, però è il mio primo anno, quindi davvero contentissima. Spero nel futuro di poter sfilare, non solo con corsi di bellezza ma anche per alcuni brand e spero che possa aprirmi il futuro per conoscere anche un po' questo mondo della moda che mi affascina da un po' di tempo e che adesso sto provando. Ciao! 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 E' la prima volta che partecipo a Miss Mondo e mi ha spinto a partecipare la mia passione per la moda comunque e la passione per le sfilate. E appunto fin da piccola ho avuto questa spinta, poi sono anche i miei genitori che mi hanno incitata ad iscrivermi. A me diciamo che sfilare fa star bene, nel senso che mi sento molto a mio agio quando sfilo. E mi piace molto comunque sia farmi vedere in generale, mi piace comunque sia l'ambito della moda. Quindi sì, mi sento molto a mio agio quando sfilo, mi piace molto. So che è un percorso molto difficile e che sì, è molto difficile insomma arrivarci. Sarebbe un gran trampolino di lancio in realtà. E' la mia prima esperienza. Spero che vada bene, sono tanto emozionata perché comunque è un mondo che mi piace tanto e quindi spero di realizzare i miei sogni e far parte di questo mondo. Diventare modella se c'è la possibilità e magari entrare nel mondo del ballo perché mi piace. Spero che vada bene, sono i miei sogni e far parte di questo mondo. Questo mondo per il momento è un'esperienza che è sicuramente da fare e anche perché ti apre diversi orizzonti. Poi diciamo che io ho sempre avuto il mio sogno nel cassetto, fin da quando sono bambina, del diventare modella. Magari quando sarò anche un po' più grande, un po' più cosciente delle mie azioni ecco. E diciamo che partecipare comunque a questi concorsi sicuramente ti aiuta a capire meglio come funziona anche il mondo della moda e delle modelle principalmente. e anche diciamo che ti insegna a capire come muoverti dentro e questo è semplicemente questo. Ho sempre avuto la passione di sfilare e della moda, ho saputo di questo concorso e da lì ho iniziato a sfilare. e spero di arrivare sempre più in alto. Mio mamma e mio nonno ovviamente ti fanno per me, ovviamente ci sono delle altre ragazze più belle e più portate, però allo stesso tempo loro comunque fanno sempre il tipo per me e mi seguono in ogni tappa. Partecipo già da parecchi anni, ho iniziato quando avevo 13 anni. a me piacerebbe semplicemente divertirsi. non è che mi aspetto di selezionarmi o cose, ma sono qua semplicemente per divertirmi, per passare una bella serata e una nuova esperienza. a me piacerebbe 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 più diciamo proprio la parola al mondo, quindi più etnie, io non sono proprio, sono italiana adesso, ma vengo dalla Russia, è russa bar-ucraina e quindi è una cosa bellissima perché in questo momento così difficile che stiamo vivendo tutt'oggi unisce molte nazionalità diverse e fa capire che nonostante ci sia una guerra può esserci anche la pace. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione però voglio andare avanti, mettercela tutta e voglio vincere. Sono tanto fotogenica, amo più le foto che fare magari sfilate, però mi piacciono entrambi, amo tutte le cose. Grazie per la visione 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 alle fasi regionali del concorso, come ti senti? Sono molto felice, non me l'aspettavo, è già da un po' di selezioni che provo a classificarmi e alla fine ce l'ho fatta, quindi sono soddisfatta. Come affronterai, quali saranno le sensazioni che proverai, pensi, nelle finali regionali? Saranno simili a quelle di adesso o magari arrivi già con un bagaglio di esperienza un po' più ampio? Sì, arriverò con più preparazione e l'affronterò allo stesso modo come un gioco per divertirmi e alla fine come andrà andrà. Lei ha per te doppia sorpresa, ti sei qualificata quarta, non solo rappresentando la cittadina di Corno di Rosazzo con il titolo di Miss Blanc di Quar, ma soprattutto ti sei anche aggiudicata a sorpresa alle finali regionali del concorso di Miss Mondo, come ti senti? Sono molto contenta, sinceramente, non me l'aspettavo, anche perché guarda, di solito sono tre, quindi sì, sono veramente felice, grazie, sì. E come pensi di affrontare le fasi successive del concorso? Sicuramente saranno più impegnative di una selezione, magari ci sarà anche più competizione, come ti preparerai per affrontarle? Grinta, insomma, bisogna andare lì col piede giusto e provarci con le massime forze, insomma, questo è l'unico modo. Sono felicissima di essere qua oggi, la seconda selezione in cui non sfilo, ma partecipo attivamente nell'organizzazione di queste sfilate che facciamo e devo dire che sono davvero orgogliosa e soprattutto molto onorata del fatto che, insomma, posso anche io far parte di questo team, mi piace presentare le ragazze, sostenerle per tante la prima volta e quindi mi ritrovo un po' in loro, no? Perché io bene o male sono cinque anni ormai che faccio concorsi di bellezza e quindi so cosa si prova, un po' l'ansia, scegliere il vestito giusto, cosa dico, le gambe che tremano, quindi sono tutte emozioni bellissime che, diciamo, adesso non vivo più perché non ho più, insomma, quell'ansietta che mi porto dietro, però comunque le sostengo sempre, mi piace, insomma, condividere con loro anche questi momenti. Devo dire che sono stata molto soddisfatta, sono molto contenta del risultato che ho ottenuto, sono arrivata tra le prime 50, che comunque non è stato facile, sono stati dieci giorni molto intensi a Gallipoli perché comunque non è solo bellezza, però è veramente tanto altro, ci hanno fatto faticare molto, però devo dire che anche il legame che abbiamo creato con le altre ragazze, perché poi riesci anche a scambiare tanti idee, punti di vista, perché trovi ragazze che vengono veramente da tutta Italia, quindi è proprio bello riuscire a conoscere anche persone nuove, è davvero una bellissima esperienza e la consiglio veramente a tutte le ragazze che vogliono anche partecipare, eccetera, è proprio, secondo me, un'esperienza che ti porti dietro nel tempo, che io non dimenticherò mai e quindi sono contentissima, ecco, di averla fatta. E insomma una serata ricca di emozioni questa sera a Corno di Rosazzo, è stata eletta la più bella, è Elisa, ma rimarremo comunque sempre in attesa di scoprire le prossime reginette perché seguiremo sempre da vicino Miss Mondo e le selezioni provinciali e regionali del concorso, sempre insieme che vi proporremo qui su Dinese TV. Grazie a tutti!